Senta, un suo collega, Guglielmo Amendola, a Vanity Fere, ha detto quando ho saputo che avrei dovuto girare con lei una scena di sesso, ho chiamato il regista di Niente Può Fermarci e gli ho detto che non la potevo fare, non sapevo nemmeno come guardarla negli occhi, lei era troppo per me. Fa questo effetto agli uomini. Ma pensa, è stata una cosa fatta al volo così. Pensa, come l'ha vissuta lui e come l'ha vissuta lei. No, io la freddezza, proprio non ho avuto questo problema. Però fa questo effetto, lei, dico. Non lo sapevo, non lo so. Il suo amico e collega, Nicola Vaporidis, ha detto Carolina è l'attrice che bacia meglio. Veramente? Sì. Ah, grazie Ricola, non lo sapevo. Non lo sapevo. Non è consapevole di questa sua carica così... Cioè, di solito, né sul lavoro né sulla vita, nessuno te lo dice in faccia così. Quindi, no, però buona sapersi. Allora, quando Andrea Scarpa su Vanity le chiese come si sentisse lei a girare scene di sesso, lei rispose, in quel caso entrano i panni del personaggio. Non è Carolina, ma il soldato Carolina. Ammettici pure che intorno a te c'hai 70 persone, eh. Quindi diciamo che di atmosfera erotica c'è veramente molto poco. Poi magari hai l'attore che si è appena bevuto il caffè e che ha la barba che ti fa male. Insomma, non è proprio una cosa erotica. Non è il suo, dice? Cioè, potendo non lo farebbe oppure non gli importa niente? Allora, se lo devo fare, se è necessario a livello drammaturgico, lo faccio. Però a volte non serve a niente. A volte è proprio come si diceva in Boris. Scusate, però c'è un certo punto il sceneggiatore dice che famo, famo l'iscopà, così il debotto, senza senso. È esattamente così. E spesso è così. L'è mai capitato di dire... E ti dici, ma perché c'è sta scena? Vabbè, me ne dica uno vero che non c'era bisogno e l'ha fatto perché comunque era nel copione. Beh, se possiamo, se non si arrabbiano gli sceneggiatori. No, non si arrabbiano. I mare fuori della seconda stagione, a un certo punto ci sono due latitanti, li abbiamo persi e io il comandante, ma diamogli un po' di, come dice, di tempo. E intanto andiamo... Ma allora, però è così, è quello là, famo l'iscopà così il debotto. È quello. Allora, nel film Henry, del regista Piva, ecco, penso che la persona a cui lei si riferiva, lei gira con Riundino una scena di sesso molto esplicita. No, non mi riferivo a lui. Non si riferiva a lui, a un altro. E le viene data proprio una telecamerina, voi dovete girare una scena, ecco. E lei dice, quella scena l'abbiamo girata in una stanza da soli perché i due fidanzatini giocano a riprendersi con la telecamera. Allora, è un film molto forte. Molto forte, nel 2009. All'inizio doveva essere montata solo dentro il televisore a tutto campo, poi il regista ha deciso di metterla a schermo pieno e lo ammetto, mi ha dato fastidio vederla così grande. È un po' forte. Troppo. Beh, sai... È un po' forte, un po' esplicita, diciamo. Era forte e poi quando tu sai che una cosa deve andare in un modo, deve essere poi montata in un modo, e poi c'è il cambio, dici che cos'è questa insistenza, questa... Non lo so, c'è qualcosa che... morboso, secondo lei. Quindi, diciamo, non l'avrebbe fatta, no? Se avessi saputo. Ma io con Michele sono stata benissima perché poi siamo amici, una persona per bene, è tutto ok. Però a posteriori, dico, forse mi sarei battuta affinché quell'immagine fosse dentro la televisione. Come era previsto. Eh sì. Però sempre Andrea Scarpa, il regista di quel film, e lo dico, lei lo sa, raccontò che invece quella è stata una scena realmente girata, nel senso che quello era sesso vero, disse il regista. Non si può fare il sesso vero. È. Ah, il regista ha detto questa cosa? In un'intervista, adesso non voglio... È interessante. È una cosa vecchia, però non sarrabbi più, perché è 2009. Beh, è uguale, il rancore che risale, vedi? No, non lo sapevo che aveva detto una cosa. No, non è sesso vero, ovviamente. Non si può fare sesso vero, ma poi non farei mai. No, perché eravate voi due, effettivamente, non c'era tutta la troupe, cioè il gioco era della telecamerina. Beh, ho capito, però... Vabbè, non era comunque. Interessante però che il regista ha detto questa cosa. Mi piace, non vorrei mai mettere zizzania. Manovre di Marche, D'Ingracosso. Questo programma non vuole mettere zizzania. Eh, è sotto, però vabbè. Camilla Baresani, di lei ha detto, tra struggenti occhioni blu, labbra teneramente morbide, e capelli lunghi che ricadono in morbidi volute, Carolina Crescentini è la personificazione della fluttuante venere di Botticelli. Addirittura? Si piace, si piace lei? Ci sono dei giorni che mi guardo allo specchio e dico, dai, ci sono dei giorni che dici, no, mettiamoci gli occhiali, fagottiamoci. Ma si piace? Dovendosi dare un voto, che voto si darebbe? Al di là dei giorni, dico. Non lo so, per essere positivi, diamoci un 7, ecco. E da 1 a 10, invece, quanto contribuiscono al suo fascino le occhiaie? Eh, questo non lo so, perché in realtà c'è chi piacciono e a chi proprio non piacciono, quindi sicuramente mi rendono diversa, però non so se contribuiscono. È seduttiva lei? All'occorrenza. Si sente sexy e sexy? Quando voglio sì. Nel 2009 lei ha posato, non nuda, ma insomma, ci stavamo quasi, per Playboy e ha detto, quando mi hanno proposto Playboy, volevo rifiutare. Chiesi al mio edicolante, del quale mi fido molto, secondo te che rivista è Playboy? Lui non disse niente, si chinò per prendere un mazzo di rivista e mi spiattellò davanti una decina di giornaletti porno. Questa è la vera immondizia, disse. Tocca andare a classe e per parlare con l'edicolante. Sbirciai quella roba arrossendo un po' e mi convinzi, il servizio fotografico per Playboy andava fatto. Lei un po' l'ha fatto per l'edicolante. Beh, a sto punto sì, non mi ricordavo questa cosa che ha tirato per i giornaletti. No, dico onestamente che al tempo c'erano diversi magazine dove c'erano delle foto più o meno così, a sto punto la facciamo su Playboy, a sto punto la buttiamo sull'icona e poi magari quando avrò 80 anni mi guarderò e dirò beh, però, eh, quindi sì, ok. Però poi l'ha fatto pure per Maxime, dopo un paio d'anni l'ha fatto pure per Maxime. Però Maxime era molto più coperto. Ce l'ha preso gusto. Beh, dice, no, però era molto più coperto, era, cioè, meno di così.